Ciao ragazzi, qui è sempre Arduino Schenato da Yardforex, come vedete sono qui nel mio ufficio, sto bevendo un caffè, sto facendo una pausa, abbiamo finito da poco la trading room sul Platinum e insieme ad Antonio abbiamo parlato e esaminato un mercato che non facciamo molto spesso che è l'Orange Juice e dove abbiamo sviluppato bene un'analisi riguardante le nostre estensioni di volatilità, i ritracciamenti e la nostra price action che utilizziamo. Mi sembrava interessante prendere l'estratto della trading room dove abbiamo parlato di questo e postarlo qui sul canale perché tutti possiate vedere come ragioniamo quando facciamo trading, che sapete è un trading molto pianificato e che lavora molto sulle estensioni percentuali e ritracciamenti percentuali della volatilità degli swing principalmente. Abbiamo fatto addirittura anche un corso su questo qualche tempo fa, tra l'altro potete trovare questo corso anche sul sito IAR Forex nella parte corsi, metterò il link nella descrizione di questo video così possiate andare a cliccare magari a vedere di cosa si tratta, ma per farvi capire ecco un pochino come andiamo a ragionare sui mercati quando parliamo di estensioni, quando parliamo di ritracciamenti e come appunto possiamo andare a trovare delle confluenze per magari far sì che ci siano delle opportunità serie sul mercato da poter cogliere e prendere, anche su mercati come Lauren Juice che non è uno dei mercati principali che utilizzo ma che in effetti tecnicamente è molto molto interessante. Quindi vi lascio a questo estratto, vi auguro una buona visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Lauren Juice Andiamo a vederlo! Una 3D room serale su IG, quella che facciamo diciamo il lunedì, no? Sì! Qualcuno ti ha chiesto dell'Oran Juice, io poi quella sera me lo sono andato a guardare, mi sono un po' divertito, metti un po' il grafico mensile, perché questo veramente io quella sera è stata la prima volta che ho aperto sto grafico nella mia vita. E' pensando che le materie prime sono stati i primi mercati a essere tradati proprio. In assoluto. In assoluto e su cui soprattutto nella materia prima che dovremmo avere qui che si chiama rice, riso, rough rice, eccolo qui, riso selvatico come dire, riso non lavorato, sono state iniziate i primi studi con le candele giapponese che noi utilizziamo oggi. Esatto, sì sì. Penso a te. Ovviamente il Giappone, il riso era una materia prima importante. Allora, io ovviamente questo grafico non l'avevo mai visto, però quando hanno dato questa cosa ve lo volevo far vedere. Metti un po' sullo swing high che ha fatto, quello sui 22.000, no? Quella indecisima che ha fatto sui massimi. Metti i livelli, metti, metti. Questa no? Sì, ora ci divertiamo un po'. Chiaramente sul T7 si è fermato. E guarda un po'. Mamma mia. Eh, però ora ti faccio divertire perché qua io mi sono divertito tanto. Allora, T7 rimbalza e torna sul T5. Ora, cancella questi livelli perché sennò poi ci confondono. Metti l'indecision che ha fatto invece sul T7, questo che ha fatto sui mini. No, 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 è là. Esatto. Metti questa. Aspetta, perché voglio prenderla bene. Allora, estensioni. Sporcheremo in poi i grafici Artù, però, insomma, cerchiamo di rimanere focalizzati. Beh, ma li sporchiamo sulla volatilità. Quindi... Vai. Allora, questo, doppio swing. Ti ricordi che era il T5, quello là, dove ha rimbalzato? Sì. In discesa. E il T5 era anche del movimento long. Doppio rimbalzo. Quando rimbalza... Esatto. Quando rimbalza due volte con falsa rottura, bellissimo. Ora, cancella sti livelli. Guardate... No, ma... Qui, Anto. Guardate le inside serie. Cioè, lui cosa ha fatto? Movimento su un livello importante. 261,8. Che, tra l'altro, era anche, no? Di questo sarà stato il 50% probabilmente, tra l'altro, no? Di quale, scusami? Di questa gamba ribassista, qua, sarà stato più o meno tra un 50 e un 38, di questo, no? Qui, tra l'altro. Te lo dico subito. Ma te lo dico io, sicuro. Vediamo. Sarà stato un 38, forse. 38,2. Perfettamente 38,2. Guarda. Grandissimo. Quindi, benissimo. Poi, ecco i trigger che ci piacciono. Questo fa questo. Bam. Poi recupera. Questa è anche un inside fake out con svarie candele. Perché, se tu guardi, queste sono inside. Lui la brecca e poi la recupera. Però, tutta quella che mi piace a me è questa situazione che vi disegno con un quadrato. Ve lo faccio con... Così, qua, per netto. Tanto non cambia niente. Cioè, qua. Questo. Vedete qua? Cosa succede? Succede che fa falsa rottura. Doppia inside e rompe con volatilità l'outside. E parte la vola. Balsa rottura. Livello. Inside inside. Rottura con volatilità. Movimento. Spettacolo. Scusa questa parentesi, ma mi piace. No, no, ma... Abbiamo detto che ci dovevamo divertire, quindi... Se i ragazzi hanno tempo, vi potete divertire un altro po'. Allora, cancella i livelli, Ardo, perché sennò ci confondono. Prendi quello swing che hai appena evidenziato tu con il quadrattino. Praticamente, misura la candela di maggio 2018, che era quella che fa lo spike. Esatto. Questo che fa lo swing. Perfetto. Misura questo. Guarda un po'. Spettacolare. Bellissimo. Adesso dobbiamo segnare anche l'altra, allora. Quella dell'ultimo swing low. Eh, sì. Perché questa dello swing low è un po' particolare, caratteristica, diciamo. Guarda un po'. Cancella, dai. Ci leggo nel pensiero, Anto. guarda qua, ritraccia in zona pullback si addormenta su 61.8 di ritracciamento e con un unico mese va a prendersi praticamente il T3 adesso ha ritracciato in T4 questo mese torna con forza sul T3, questo è un segnale long questo ritorna e guarda il T7 di dove arriva aspetta, adesso prendiamo anche questa aspetta un attimo che faccio così questa è una zona veramente importantissima e questo arriva lì allora, facciamo così alla zona super importante più prendiamo anche alla fine, prendiamoci anche questo cosa dici Anto? si, si, pericoltori guarda qua pericoltori diciamo, perché ti ama sporcare i grafici no, Ardu? e quindi va bene così bellissimo bellissimo beh, teniamolo in monitor questo qua, no Anto? eh sì, l'ora in giù è quello che ti dicevo prima, no? che quando vediamo certe cose come abbiamo visto ieri sull'indice italiano per dire o come io ho notato delle situazioni in effetti su molte materie prime no alcune molto molto chiare e interessanti o questa che è chiarissima eh, valutiamo non so poi se settimanale o daily eh io credo già settimanale si possa fare qualcosa ma perché il daily forse è un po' brutto non lo so no, no è bello è bello diciamo che noi dobbiamo dobbiamo guardare bene quando fa determinate situazioni lo diceva prima Daniele se non ricordo male che su determinati livelli quando ci crea delle price action interessanti importanti magari volatili pure no? cioè dei segnali di forza ribassista o rialzista in questo caso eh sono da tenere in considerazione assolutamente noi qua stiamo parlando di grafici mensili ragazzi questi sono movimenti di anni e la precisione con cui ha lavorato su queste ragazzi io questo non lo vi giuro eh Arduino lo sa cioè io questo grafico Orange Juice l'ho aperto lunedì scorso la prima volta nella mia vita e comunque Johnny dice è terribile e comunque ragazzi eh teniamoli monitorati tanto siamo qui ogni giorno un'ora abbiamo il fine settimana da fare le nostre analisi il pomeriggio eh avete un'ora di tempo o insomma durante la giornata avete un'ora di tempo invece di provare a lavorare sui cinque minuti come vi diciamo sempre lo so che non lo fate ma eh ci sono veramente le materie alcune materie prime devo dire che le ho viste io ieri le ho guardate adesso non ci siamo neanche messi d'accordo di etanto però devo dire che hanno dei movimenti molto molto chiari che eh durano poi facilmente qualche settimana eh ma proprio con delle entrate con i nostri segnali molto molto chiare e con dei rapporti anche di rischio rendimento classici assurdi eh cioè quindi perché hanno dei bei trend quindi quando ci sono ma anche guardate anche solamente nel settimanale questo bel trend short no che cosa può essere nel momento in cui magari si fa anche un'analisi di più ampio spiro come stiamo facendo adesso con i vari livelli eccetera voi provate a pensare qui c'è il mercato ti dà per settimane ti dà per settimane dei soldi e basta solo guardarlo e gestire quando lui inizia a ripartire perché magari siamo su un livello ci fa una price action eccetera no? sì quindi noi rimaniamo focalizzati Ardu sì sono completamente d'accordo guarda un po' quando proprio tenendo i livelli e tutto ma tu guarda un po' che cosa ha fatto il prezzo in data 28 febbraio vai sul daily perché io adesso guarda questa zona di lateralità dove lui praticamente era nella pullback zone di questo del mensile no? sì per capirci 15 esatto guarda che cosa fa il 28 febbraio guarda eccolo là queste qua sono pure classiche pin con falsa rotturanto mamma mia ragazzi assurdo eh eh questo per dire non mi ricordo chi ieri aveva messo i livelli sul mimbo che ci aveva fatto mettere i livelli sul mimbo sì qualcuno quando dice il T7 è stato rotto ma hai capito che c'era qua qua c'era che comandava il mensile questa era una pin sul daily che però comandava il mensile come esattamente ieri abbiamo visto sul sul mimbo che era una pin sul daily ma non andavano messi i livelli sulla pin ma andavano messi a livello mensile settimanale per quanto riguarda il mimbo nel caso di ieri sì assolutamente bello 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 da domani year commodities dice Paolo no però devo dire che sicuramente a parte che vabbè poi io ogni anno ci sono delle cose che verso fine anno che poi ci sono anche tutti i buoni propositi per l'anno nuovo eccetera almeno io questa cosa mi piace avere alla fine anno riprogettarmi un po' rivedere insomma mi serve lo faccio a fine anno potrei farlo anche in altri momenti però lo abbiamo sempre fatto qui rivedendo un attimo il piano eccetera io credo che insomma seguire visto che abbiamo il tempo perché noi facciamo comunque il daily il weekly il mensile nelle analisi mensile weekly daily cioè non è che vogliamo vedere per forza oggi una cosa ma se ci progettiamo dei bei trade ne facciamo meno sono più pianificati e cose come questa tanto cioè io adesso voglio dire ma come è stato anche il MIB io non è che c'ho niente contro il MIB voglio dire il MIB ieri vedendolo in effetti che è un mercato che non seguiamo mai praticamente aveva tutte le caratteristiche sia di price action come dire la pin i livelli di domanda offerta e sia di estensione di volatilità perfetti direi no? quindi cioè voglio dire abbiamo il tempo utilizziamolo per fare queste cose quindi anche sul canale sul gruppo facebook sia io che te Anto e lo dico a me e te prima di tutto ma anche agli altri perché comunque uno continuiamo a crescere no? condividendo e due magari ne salta fuori anche delle operazioni belle e tra l'altro se tu noti anche questa qui adesso che mi stai facendo vedere quasi di una facilità estrema no? voglio dire cioè e di una rapidità di movimento poi questi qua sono poi movimenti sono anche mercati no? così però insomma con i nostri posizionamenti di stop con le nostre cose non è che noi andiamo a fare cose quindi secondo me è una cosa da valutare insieme per migliorarci sempre migliorare anche la nostra operatività stando sempre ovviamente focalizzati sui nostri 5-6 valute principali l'indice S&P l'oro ma dare spazio a volte anche ai mercati perché essendo noi trader questo anche siamo chiamati a fare cioè a diciamo un po' come se fossimo cioè a scovare anche alcune opportunità che magari certi non credono siano opportunità in questo caso in effetti con lo studio che adesso ha fatto Antonio i livelli eccetera vedendo un po' quello che può essere anche sul daily un certo tipo di dinamica è interessante ma anche solo quella sul wiki con quella falsa rottura con le doppie inside aumento di volatilità rottura mamma mia era spaventosamente incredibile ma guardate anche qui io sono sicuro che se mettiamo livelli eccetera guardate qua questa questa congestione dopo questo grande ritracciamento a tutta inside porta poi a dei movimenti boom no bellissimo comunque il trading Anto più lo faccio e più lo farò per sempre è troppo non vale non vale